Spiegazione del capitolo 15 Rimane ora da discutere come il principe debba trattare amici e sudditi. Molti già hanno scritto dei doveri di un principe nei confronti dei suoi sudditi e molti hanno immaginato repubbliche e principati utopici, dove tutto è pensato per il meglio. Se un principe prende esempio da queste situazioni utopiche rischierà di perdere tutto quello per cui ha lavorato, perché è di fatto impossibile fare sempre tutto bene. Perciò è necessario al principe sia essere buono sia non buono, a seconda delle situazioni. L'autore sostiene che gli uomini e i principi ogni volta che ricoprono un incarico importante sono notati ed etichettati con termini che li indicano con biasimo o con lode, liberale o misero, caritatevole o rapace, crudele o pietoso, fedifrago o fedele, pusillanime o audace, feroce o animoso, umano o superbo, lascivo o casto, leale o sleale, duro o facile, grave o leggero, religioso, ateo, eccetera. Machiavelli sa che tutti pensano che sarebbe una cosa buonissima che un principe annovere in sé solo le qualità buone fra quelle citate, ma essendo umano e non potendole avere tutte, è necessario almeno che il principe sia abbondantemente prudente e, se è possibile, che faccia di tutto per liberarsi della forma del vizioso. Inoltre al principe non dovrà interessare troppo se, per via dei vizi necessari al mantenimento del dominio sullo Stato, verrà giudicato in maniera negativa. Il fatto che vi siano virtù che, anziché facilitare la gestione dello Stato, ne rendono più semplice la rovina, è una circostanza più frequente di quello che si pensi. Capitolo 15. Ciò per cui gli uomini e i principi sono o lodati o biasimati. Resta ora vedere quali debbano essere modi e governi di uno principe con sudditi o con gli amici. E perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito scrivendone ancora io, non essere tenuto prosuntuoso, partendomi massime nel disputare questa materia dagli ordini degli altri. Ma, sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa. E molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero. Perché egli è tanto discosto da come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare impara piuttosto la ruina che la preservazione sua. Perché uno uomo che voglia fare in tutte le parti professioni di buono conviene rovini infrattanti che non sono buoni. Onda è necessario a uno principe, volendosi mantenere, imparare a poter essere non buono ed usarlo e non usare secondo la necessità. Lasciando adunque indietro le cose circa uno principe immaginate e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massime ai principi, per essere posti più alti, sono notati di alcune di queste qualità che arrecano loro o biasimo o laude. E questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero, usando uno termine toscano perché avaro in nostra lingua è ancora colui che per rapina desidera di avere, misero chiamiamo noi quello che si astiene troppo di usare il suo. Alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace, alcuno crudele, alcuno pietoso. L'uno fedifrago, l'altro fedele. L'uno effemminato e pusillanime, l'altro feroce ed animoso. L'uno umano, l'altro superbo. L'uno lascivo, l'altro casto. L'uno intero, l'altro astuto. L'uno duro, l'altro facile. L'uno grave, l'altro leggeri. L'uno religioso, l'altro incredulo e simili. Ed io so che ciascuno confesserà che sarebbe laudabilissima cosa uno principe trovarsi di tutte le soprascritte qualità, quelle che sono tenute buone. Ma perché non si possono avere né interamente osservare per le condizioni umane che non lo consentono, gli è necessario essere tanto prudente che sappia fuggire l'infamia di quelle che li torrebbero lo stato e da quelle che non gliene tolgano guardarsi, se li è possibile. Ma non possendo, vi si può con meno rispetto lasciare andare. E Teziam non si curi di incorrere nella infamia di quelli vizi senza quali possa difficilmente salvare lo stato. Perché, se si considererà bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù e seguendola sarebbe la ruina sua. E qualcuna altra che parrà vizio e seguendola ne riesce la securtà e il bene essere suo. Spiegazione del capitolo 16 Arrivato a questo punto, dopo aver passato in rassegna le qualità che un buon principe dovrebbe avere, Machiavelli espone la tesi per cui è bene che un principe sia considerato liberale, ovvero generoso. Tuttavia, egli mette subito in guardia il lettore sul fatto che la generosità, se usata nel modo sbagliato o se ostentata in maniera troppo appariscente, può avere anche effetti negativi. Come qualsiasi altra attività umana, anche mantenere la reputazione di persona prodica richiede denaro. E l'autore su questo tema è chiaro. Il principe che vuole apparire troppo, alla fine erode le proprie finanze e si mette alla condizione di avere bisogno di nuovi fondi, necessità che inevitabilmente rovescerà sul popolo. Un innalzamento della pressione fiscale sulla popolazione, tuttavia, avrà un effetto opposto sulla reputazione del principe presso il popolo, rendendolo malvoluto. Proprio per questo è consigliabile che uno principe sia parsimonioso, anche se questo potrebbe avere un impatto iniziale sulla sua reputazione fra il popolo. Meno sperpero di denaro significa anche meno tasse sul popolo. Machiavelli a questo punto fa notare come nei tempi recenti solo quelli considerati miseri abbiano fatto grandi cose, mentre gli altri siano andati incontro ad una mala sorte. Perciò il principe non deve preoccuparsi di incorrere nella reputazione di parsimonioso o misero, come lo definisce l'autore. Questo è uno di quei vizi che alla lunga lo aiutano a regnare, e se uno dovesse obiettare che fu proprio grazie al suo portafoglio che Cesare divenne un capo di stato, l'autore risponde che esistono solo due categorie di principe. Quello compiuto e quello in divenire, e per il primo sperperare denaro è dannoso, mentre per il secondo è un bene. Qualcuno a questo punto potrebbe replicare che sono stati molti i principi che sono riusciti a realizzare grandi cose senza venire considerati troppo parsimoniosi. L'autore risponde dicendo che bisogna distinguere fra come il principe spende il proprio denaro, e in questo Machiavelli include anche quello dei sudditi, e come spende il denaro degli altri. Nel primo caso deve necessariamente essere moderato, nell'altro invece non si deve far scrupolo nello spendere, nel distribuire attraverso bottini, saccheggi e taglie, perché altrimenti si inimicherebbe l'esercito. Per lui il denaro che non è né patrimonio personale, né derivante dalla tassazione e sui sudditi, va distribuito come fecero Ciro, Cesare o Alessandro Magno, perché spendere il denaro ad altri non intacca la reputazione, ma aiuta a costruirla, mentre i danni arrivano dallo sperperare il proprio patrimonio. La capacità di spesa, mano a mano che viene utilizzata senza controllo, riduce la sua stessa facoltà di azione, conducendo alla povertà e rendendo il principe rapace e odioso agli occhi del popolo. E in cima alla lista delle cose che un principe deve evitare maggiormente, vi è proprio, per il Machiavelli, l'essere rapace e odioso. Per questo c'è più virtù nell'essere moderato nella spesa, rischiando una pessima nomea, ma senza alcun tipo di odio, che essere deliberatamente di manica larga alimentando il sentimento di rabbia e ira nel popolo. Capitolo 16. Liberalità e la parsimonia del principe Cominciandomi adunque alle prime soprascritte qualità, dico come sarebbe bene essere tenuto liberale. Non di manco la liberalità, usata in modo che tu sia tenuto, ti offende, perché se ella si usa virtuosamente e come la si debba usare la non fia conosciuta e non ti cascherà l'infamia del suo contrario. E però a volersi mantenere in fra gli uomini e il nome del liberale è necessario non lasciare indrietro alcuna qualità di suntuosità. Talmente che sempre uno principe così fatto consumerà in simili opere tutte le sue facoltà e sarà necessitato alla fine, se si vorrà mantenere il nome del liberale, gravare popoli straordinariamente ed essere fiscale e fare tutte quelle cose che si possono fare per avere denari. Il che comincerà a farlo odioso con sudditi e poco stimare da nessuno, diventando povero. In modo che, con questa sua liberalità, avendo offeso gli assai e premiato i pochi, sente ogni primo disagio e periclita in qualunque primo pericolo. Il che, conoscendo lui e volendosene ritrarre, incorre subito nella infamia del misero. Uno principe adunque non potendo usare questa virtù del liberale senza suo danno, in modo che la sia conosciuta, debbe, se li è prudente, non si curare del nome del misero. Perché col tempo sarà tenuto sempre più liberale, veggendo che con la sua parsimonia le sue intrate li bastano, può difendersi da chi li fa guerra, può fare imprese senza aggravare popoli. Talmente che viene a usare liberalità a tutti quelli a chi non toglie, che sono infiniti, e miseria a tutti coloro a chi non dà, che sono pochi. Nei nostri tempi noi non abbiamo veduto fare gran cose se non a quelli che sono stati tenuti miseri, gli altri essere spenti. Papa Giulio II, come si fu servito del nome del liberale per aggiungere al papato, non pensò poi a mantenerselo per poter fare guerra. Il re di Francia presente ha fatto tante guerre senza porre un odazio straordinario a sua, solo un perché alle superflue spese ha somministrato la lunga parsimonia sua. Il re di Spagna presente, se fossi tenuto liberale, non avrebbe fatto né vinto tante imprese. Pertanto, uno principe debbe esistimare poco per non avere a rubare e sudditi, per poter difendersi, per non diventare povero e contenendo, per non essere forzato di diventare rapace e di incorrere nel nome del misero. Perché questo è uno di quelli vizi che lo fanno regnare. E se alcuno dicessi, Cesare con la liberalità pervenne allo imperio e molti altri per essere stati ed essere tenuti liberali sono venuti a gradi grandissimi, rispondo, o tu sei principe fatto, o tu sei in via di acquistarlo. Nel primo caso questa liberalità è dannosa, nel secondo è bene necessario essere tenuto liberale. E Cesare era uno di quelli che voleva pervenire al Principato di Roma. Ma se poi che vi fu venuto, fossi sopravvissuto e non si fosse temperato da quelle spese, avrebbe distrutto quell'imperio. E se alcuno replicassi, molti sono stati principi e con gli eserciti hanno fatto gran cose che sono stati tenuti liberalissimi, e ti rispondo, o il principe spende del suo o dei suoi sudditi o di quello d'altri. Nel primo caso debba essere parco, nell'altro non debba lasciare indietro parte alcuna di liberalità. E quel principe che va con gli eserciti, che si pasce di prede, di sacchi e di taglie, maneggia quel di altri, gli è necessaria questa libertà. Altrimenti non sarebbe seguito da soldati. E di quello che non è tuo o di sudditi tua, si può essere più largo donatore, come Fuciro, Cesare ed Alessandro. Perché lo spendere quello d'altri non ti toglie reputazione, ma te ne aggiugne. Solamente lo spendere il tuo è quello che ti nuoce. E non c'è cosa che consumi se stessa quanto la liberalità, la quale, mentre che tu usi, perde la facoltà di usarla e diventi o povero, e contenendo o, per fuggire la povertà, rapace ed odioso. E ti intra tutte le cose di che uno principe si debbe guardare e lo essere contenendo ed odioso. E la liberalità all'una e l'altra cosa ti conduce. Pertanto è più sapienza tenersi il nome del misero, che partorisce una infamia senza odio, che per volere il nome del liberale essere necessitato incorrere nel nome di rapace, che partorisce una infamia con odio.